agricoltori in un mondo in costante evoluzione. Per coloro che non conoscevano Axe Real, posso fare una breve presentazione del gruppo. Innanzitutto, Axe Real è il risultato di un adattamento permanente alle necessità dei suoi soci agricoltori in un mondo che è in costante evoluzione. Adaptazione alla concentrazione dell'agrofornitura, adaptazione alla concentrazione di nostri clienti transformatori, l'adaptazione alla liberalizzazione dei rischi, l'adaptazione alla deregolazione del marchio, l'adaptazione ai coi di accelto di più e più elevati alla filiera della trasformazione e, finalmente, l'adaptazione all'evoluzione delle domande societali. Allora, parliamo di un adattamento alla concentrazione dell'agrofornitura, un adattamento alla concentrazione dei nostri clienti transformatori, un adattamento alla liberalizzazione degli scambi, di adattamento ancora alla deregolazione dei mercati, adattamento ai costi di accesso che sono sempre più alti oramai nelle nostre filiere di trasformazione e ancora adattamento alle funzioni di richieste che emergono da parte delle società. Ebbene, si tratta di adattamenti che in alcuni casi, sì, abbiamo subito, ma che in altri siamo stati in grado di anticipare. Grazie.